E bello a tutti ragazzi, ben ritrovato nel mio canale, sono Giuseppe Carrini Vi volevo dire che, aspetta che metto bene la telecamera Che domenica 19 faremo una gara qui a Croce Marroggia, vicino a casa mia Ci aspetteremo domenica 19 di mattina alle 11 alla chiesa di Croce Marroggia L'abbiamo fatta io e Niccolò Cadana, ieri abbiamo fatto tipo un vettucciato su un gambetto E mi raccomando venite, questo qui è solamente un avviso Solamente che non posso leggere i vostri commenti perché mi dice che Google mi dice che sono disattivati E me l'ha disattivato Google, quindi non posso leggere i vostri commenti Un giorno faremo sempre qui un video su YouTube tipo un fact time Che rispondo alle vostre domande su Instagram E mi raccomando Se volete mettere like su questo video mettetelo Sennò è uguale che tanto è solamente un avviso Mi raccomando venite, scrivetemi qui Scrivetemi sul mio profilo Instagram Che è Giuseppe Carlini Nemmeno mi ricordo come mi chiamo su Instagram E mi raccomando lasciate like, commentate e iscrivetevi Quello è l'importante che vi iscrivete Commentate no perché non posso leggere Quindi non spregate il tempo per commentare eccetera eccetera E l'entrata, ah questo lo volevo dire, l'entrata si paga 3 euro a persona Poi si farà anche uno sconto forse, non si sa Però l'entrata è 3 euro a persona E al pranzo vi dovete portare dei panini, quello che volete un po' da mangiare Che mangiamo su un gambetto insieme Secondo me è una cosa bella perché insieme adesso si sta bene Niente, mi raccomando Venite perché è una cosa bella Vengono forse anche i Calisti Che saluto, il Byker SP Seguiteli su Youtube E anche Alessandro Calisti 52 che fa i video molto belli E niente, ci rivediamo al prossimo video Bella